A seguito di una segnalazione, i carabinieri di Nichelino sono intervenuti per una lita in famiglia tra madre e figlio. Durante i controlli, la madre ha accusato il figlio di essere uno spacciatore. A questo punto i militari dell'arma hanno effettuato la perquisizione della casa e hanno trovato 200 grammi di marijuana parzialmente confezionata in dosi. Il ragazzo a questo punto è stato arrestato e tradotto in carcere. Grazie per la visione!